Un'altra storia, Comitato Varesino per la Palestina, Ipsia e Sherazad insieme per ricordare Vittorio. Venerdì nella sede Acli di Varese verrà raccontata la storia di Vittorio Arrigoni, il volontario italiano ucciso da un comando di estremisti in Palestina otto anni fa. Ha cominciato a girare il mondo e a occuparsi delle situazioni più difficili, più complicate. È stato in Africa, in Sud America. Poi a un certo punto è arrivato a Gaza, in Palestina e a Gaza, che ovviamente è stata una zona con grandissimi problemi da molti anni. Ha visto, è rimasto folgorato da questa situazione, ha deciso di fermarsi e con molto coraggio ha difeso i contadini, i pescatori palestinesi di Gaza che vengono continuamente colpiti quando si avvicinano ai confini o provano ad andare per coltivare o provano ad andare a pescare con le loro barche nel loro mare che gli ha impedito. Questo sicuramente ha dato molto fastidio e a un certo punto lui è stato assassinato da dei sicari. Sarà presente anche la mamma di Vittorio, Egidia Beretta, che presenterà un libro scritto proprio per ripercorrere la vita del figlio. Una vita impregnata di coraggio, di pace, di umanità. Un'altra storia, Comitato Varesino per la Palestina, Ipsia e Sharazad, quattro soggetti associativi, associazioni e organizzazioni varesine, propongono un grande e importante evento per venerdì 28 giugno. Ricordando Vic, Vic è Vittorio Arrigoni, pacifista e attivista per i diritti umani, soprattutto in Palestina e Gaza. L'incontro avrà come figura centrale Egidia Beretta Arrigoni, che era la mamma di Vittorio. Nel corso della sarata si parlerà in particolare di due libri, ci saranno delle proiezioni e anche una mostra.